Uno Stato che ha visto il suo dipendente affrontare con coraggio, con esperienza, con capacità, che muore per un bozzeglio che di carattere lo schiaccia praticamente e che secondo me lo Stato va tutto bene così, insomma, trovo delle assurdità, delle realtà e delle ingiustizie sostanziali veramente molto gravi. Sono passati 18 anni dalla drammatico incidente in cui perse la vita Simone Mazzi ed adesso lo Stato ha deciso di presentare ricorso in appello impugnando la sentenza di condanna e di risarcimento dei danni ai familiari del giovane pompiere. La famiglia è molto dispiaciuta e molto anche arrabbiata. Vedono disattese qualunque tipo di loro richieste. Era il 28 gennaio 2003 quando il 29enne venne calato con una barella per soccorrere un camionista finito fuoristrada lungo la statale 73, qualcosa però andò storto, il cavo si ruppe e il bozzello finì sulla testa del giovane uccidendolo sul colpo. Le responsabilità del ragazzo non possono esserci. Di coloro cooperavano, tutti quanti l'hanno escluso. Quelli che avevano disposto il tipo di macchinari che venivano utilizzati certamente non riguardano la famiglia né Simone Mazzi, quindi l'unico problema è quello di pensare che non so chi, forse, la responsabilità del destino e basta. Dopo le assoluzioni dei vertici e retini in giudizio penale, infatti in sede civile, l'attenzione si era spostata sulle responsabilità del datore di lavoro, ossia il Ministero degli Interni. Lo scorso agosto, poi, la sentenza di primo grado aveva stabilito che ai vigili del fuoco era stata fornita un autogru non sicura e quindi Simone Mazzi morì per un difetto congenito del cavo del mezzo con la conseguente responsabilità dello Stato condannato al risarcimento dei danni morali subiti dalla madre e dal fratello ed adesso la notizia del ricorso. A questo punto lo Stato sembra che non voglia risarcillo, non voglia provvedere a far nulla, si limita a dare una medaglia d'oro al valore del pompiere e con quella pensi di aver ripagato tutto il dolore. Ancora ad oggi, dunque, non è stata scritta la parola fine al calvario dei familiari di Simone che continuano a chiedere a gran voce giustizia. Siamo pronti a tutto perché ormai è diventata una necessità di andare avanti fino in fondo.